Salve ragazzi, rieccoci. Oggi non parliamo della Juventus, parliamo di un club storico. È un club spagnolo, con centomila spettatori e con un bellissimo stadio Camp Nou come Barcellona. Ma il Barcellona è andato in Europa League? Oh mio Dio, a me dispiace tanto per il club blaugrana per i tifosi. Purtroppo questo è stato un enorme danneggiamento per il Barcellona finire in Europa League. Ma l'ino dell'Europa League è questo? Oh 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 Mamma mia Povero Barcellona Dopo 21 anni Non supera i gironi della Champions Ed è andato in Europa League Mi dispiace tanto Un club storico come il Barcellona L'ho sempre visto in Champions In realtà non mi era mai successo Che il Barcellona andasse in Europa League Spero che si riprenda il Barcellona A me piace il Barcellona come squadra È sempre stata una bellissima squadra A livello calcistico E a livello di gioco Di allenatore, di giocatori Purtroppo in questa squadra Il Barcellona non ha i campioni Certo, se n'è andato via Messi Me lo ricordo Ad agosto A zero E non ha più i campioni Ed è finito in Europa League Mi dispiace tanto I giocatori come Xavi Iniesta Poi Se non vado errato Suarez Neymar Non ha più un attacco atomico Il Barcellona Allora Sei partite del Barcellona in Champions Prima partita Barcellona-Bayern Zero tre Dai, ci può stare Contro il Bayern Monaco Contro una macchina da gol Ci può stare Perdere contro il Bayern Monaco Benfica-Barcellona 3 a 0 Benfica Mamma mia Un'altra batosta questa Barcellona-Dinamokiev 1 a 0 Corto muso Dinamokiev-Barcellona 0 a 1 Ancora una volta di corto muso In questi gironi di Champions Il Barcellona ha totalizzato Solo due gol In Champions League Barcellona-Benfica 0 a 0 È di qua che non sono qualificati Che non è qualificato il Barcellona In Barcellona-Benfica Non si è qualificato il Barcellona Ha fatto 0 a 0 Fuori dalla Champions L'ultima giornata Bayern Monaco-Barsa 3 a 0 Povero Barcellona Cari tifosi del Barcellona Mi dispiace tanto Andate a farvi l'Europa League Vi riprendete Asciate tranquilli Se il video vi è piaciuto Lasciate subito un like al video Commentate Iscrizione al canale Se siete nuovi Se siete già iscritti Cliccate subito la campanella Per non perdervi Altri miei prossimi video Che usciranno Seguitemi sia su Facebook Che su Instagram Ci vediamo molto presto Per i miei prossimi video E sempre fino alla fine Vamos Juve Ciao belli Ciao Ciao